Vendere sui social network. Da quando i social network sono entrati così prepotentemente nella vita di ognuno di noi, tantissime attività di tipo commerciale hanno deciso di inserirli e giustamente nella loro strategia di marketing. Ma come li utilizzano? Se andiamo a controllare e a vedere come sono gli account di tipo commerciale piuttosto che le pagine business, ci accorgiamo che le bacheche sono piene zeppe di fotografie o di post relativi alla vendita di un prodotto o di un servizio. C'è solo un piccolissimo problema, che le persone sui social network non sono lì per comprare. Infatti diciamo che possono essere racchiusi in 5 i motivi per cui le persone frequentano i social network. Sono lì per formarsi o per informarsi, cioè per capire qualche cosa, scoprire le novità. Oppure per un motivo di ego. Io pubblico delle cose che interessano me, che riguardano me, la mia vita quotidiana, quello che sto facendo. Oppure vado per svagarmi. Ho dieci minuti liberi nel mio lavoro e vado a scorrere la mia bacheca di Facebook piuttosto che guardare il profilo Instagram per vedere quello che succede. E l'ultimo diciamo che forse non è in posizione ultima per ordine di importanza è quello di voglio farmi gli affari degli altri. Nessuno di questi motivi è un motivo di acquisto diretto. Nessuno va sul social network per acquistare direttamente. Vado su Amazon per acquistare, vado su eBay per acquistare, non sicuramente direttamente su Facebook, almeno per il momento. Quindi se il mio potenziale cliente non è lì per acquistare è inutile che io cerchi direttamente di vendere. Quindi come dobbiamo farlo? In maniera indiretta. E questo ve lo racconto nelle prossime puntate.